Forza Italia boccia la finanziaria regionale, non ci sono certezze sui fondi. Nuovo sbarco di migranti ad Augusta, fermati sei presunti scafisti. Al Malaspina di Palermo, l'evento, una pizza per un sorriso. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews, oggi è giovedì 28 gennaio. Forza Italia boccia la finanziaria regionale, ferma in commissione bilancio all'Ars. Per il gruppo parlamentare non ci sono certezze sui fondi che il governo Renzi ha promesso alla Sicilia. Forza Italia boccia la manovra finanziaria regionale, ferma in commissione bilancio all'Ars, che secondo la tabella di marcia della Capigruppo dovrebbe approdare a Sala d'Ercole il 16 febbraio. Secondo il parere del gruppo parlamentare non ci sono certezze sui fondi che il governo Renzi ha promesso alla Sicilia. 1 miliardo e 450 milioni di euro, 900 milioni assegnati con un'apposita norma della legge di stabilità nazionale. E poi c'è il problema dei tagli ai comuni, che fino a giugno non riceveranno un solo euro, delle nuove imposte per gli enti locali e delle spese con coperture poco chiare come quelle per i forestali. Se ne è parlato nel corso di una conferenza stampa indetta ad hoc. In particolare gli azzurri si riferiscono a tre articoli nascosti tra le pieghe della finanziaria regionale, da cui si evincerebbe il tentativo di voler alimentare le file dei privilegiati che fanno parte dei CDA di enti e partecipate. È chiaro, ha denunciato il capogruppo Marco Falcone, che siamo di fronte a una manovra per la prossima campagna elettorale, perché ci sono norme assurde come quella proposta dall'assessore al territorio Maurizio Croce, che prevede l'assunzione di 30 persone esterne nella commissione istituita dalla precedente manovra. Forza Italia ha chiesto dunque alla ragioneria dell'Assemblea di verificare alcune anomalie sulle entrate riscontrate nella finanziaria. È evidente, ha aggiunto Falcone, che oltre a fare clientelismo, il governo non è capace di attingere a risorse extra-regionali per far funzionare il circuito produttivo. Verticio al Ministero dello Sviluppo Economico per il Petrolchimico di Gela. Il sindaco messinese è bene gli ammortizzatori sociali, ma adesso si acceleri su bonifiche, riconversione e sviluppo. Accogliamo di buon grado il Sì del Ministero del Lavoro a concedere gli ammortizzatori sociali e gli operai usciti dal circuito economico, ma ciò che conta maggiormente ora è rispettare il cronoprogramma indicato per le bonifiche del territorio, la realizzazione della Green Raffineri, il progetto di una strategica del Mediterraneo ed altre direttrici per lo sviluppo di Gela. Lo ha detto il sindaco, Domenico Messinese, al termine del Verticio al Ministero dello Sviluppo Economico. I sostegni economici concessi avranno termine ad aprile, mese entro cui dovranno partire le autorizzazioni del governo Adeni e dunque cantieri di riconversione industriale, bonifiche incluse. Via libera anche alla deroga del 5% dei fondi nazionali a favore della regione siciliana per coprire eventuali ritardi con nuovi ammortizzatori sociali e tutelare che ha perso la Cassa Integrazione negli ultimi mesi del 2015. A metà febbraio la conferenza dei servizi decisoria per il rilascio di tutti i progetti certificati positivamente, e pochi giorni dopo nuovi incontri tra le parti, per verificare gli adempimenti di Eni sui progetti valutati negativamente al fine di avere un più chiaro quadro del riassorbimento occupazionale. Non saremo completamente soddisfatti fino a quando non si apriranno i cantieri per la riconversione, ha commentato il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano. Per questo continueremo a pretendere la presenza della parte politica del governo centrale ad ogni fase di verifica, in quanto, essendo esso l'attore decisore sulle politiche energetiche strategiche, gli vanno attribuite le responsabilità della crisi di Gela e dunque anche le soluzioni. Nuovo sbarco di migranti ad Augusta, ieri sono arrivati in 774, fermati sei presunti scafisti. Nuovo sbarco di immigrati ad Augusta, ieri sera sono arrivati in 774, uomini e donne di varie nazionalità, tra loro anche numerosi bambini. Sei presunti scafisti sono stati sottoposti a fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dal personale del gruppo Interforze della Procura di Siracusa, che in seguito allo sbarco ha raccolto indizi nei confronti di tre migranti del Gambia, uno della Guinea, uno dell'Egitto e uno del Marocco. Tutti hanno tra i 21 e i 24 anni, mentre altri quattro sono ancora in corso di identificazione. I migranti sono stati recuperati in mare dalla nave della Marina Militare Bettica e poi trasferiti a Pozzallo. Agli investigatori hanno raccontato di essere partiti dalla Libia, a bordo di quattro gommoni, e di avere viaggiato sempre insieme fino al salvataggio, grazie alle navi impegnate nello specchio d'acqua davanti le coste libiche. Hanno detto di avere navigato per otto ore o poco più, e subito sono stati soccorsi, superate le acque libiche, così come gli organizzatori gli avevano detto di fare. Ci picchiano se non facciamo posto agli altri e se ci lamentiamo usano grossi bastoni per farci sistemare a bordo, come dicono loro, anche se lo spazio era già finito, hanno raccontato. Le indagini hanno permesso di scoprire il consolidato sistema dei trafficanti di esseri umani. Test di medicina all'Università di Palermo vincono gli studenti, ammessi senza più riserve. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa rigetta l'appello del Ministero sulla sentenza del Tar di Palermo. Buone notizie per tutti gli studenti che hanno tentato il test di medicina all'Università di Palermo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, infatti, ha rigettato l'appello dell'Avvocatura dello Stato, con il quale era stata impugnata la prima sentenza in Italia di paternità del Tar di Palermo sul caso della violazione dell'anonimato durante il test per l'ammissione ai corsi di laurea di medicina e odontoiatria del 2013. Si tratta di un risultato storico per i candidati che finora sono stati immatricolati con riserva. Da oggi saranno studenti a pieno titolo in corsa per il camice bianco. Inoltre, il rigetto dell'appello per i primi dieci candidati segna un nuovo corso anche per tutti gli esclusi che hanno fatto ricorso per violazione dell'anonimato. In Sicilia sono più di 1.500. Il Tar ha anche inviato gli atti alla Procura della Repubblica, evidenziando che la scelta del MIUR e dell'Ateneo di far compilare la scheda anagrafica prima dello svolgimento dei test ed esporla sul banco accanto al documento di riconoscimento ha consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente e rilevante violazione del principio dell'anonimato. Una linea sposata in pieno dai giudici del CGA che hanno dunque rigettato il ricorso del Ministero e accolto le istanze degli studenti. Almaviva, la nostra avvertenza come quella di Gela non siamo secondi a nessuno. Domani sit-in dei lavoratori, incontro con l'assessore Mariella Lobello. Ennesimo sit-in dei lavoratori Almaviva, domani nel giorno dell'incontro previsto con l'assessore alla ramo Mariella Lobello. SLC, CGL, Fistel CIS, The Welcome Will, UGL Telecomunicazioni protesteranno per chiedere vere soluzioni all'avvertenza che mette a rischio una delle principali realtà produttive siciliane con l'annuncio dei circa 1.500 esuberi in pochi mesi a Palermo. L'invito al tavolo presso l'assessorato è steso al presidente Crocetta, illustre assente in questa trattativa, dicono i sindacati. La tenacia dei lavoratori che hanno manifestato con noi non può essere tradita da impegni secondari. Presto indiremo anche uno sciopero, continuano. Almaviva ribadisce la forte criticità vissuta nei siti di Palermo, Napoli e Roma. Non abbiamo tempi certi e non sappiamo nemmeno se fra gli esuberi sono già considerati circa 600 lavoratori della commessa Enel, che è stata di recente persa all'azienda. Per il momento è in proroga, ma non sappiamo fino a quando. Si vive nell'incertezza e tutto sempre per via della totale mancanza di regole in questo settore, che invece dovrebbe essere regolato dai principi certi, dato che occupa migliaia di persone. Solo 10.000 a Palermo, oltre 20.000 in Sicilia. Fino al 31 maggio i lavoratori palermitani dovrebbero percepire gli ammortizzatori in deroga, ma neanche su questo punto vi sono certezze. In occasione del 71esimo anniversario della giornata della memoria, una delegazione dell'Asp di Palermo è stata invitata a Cracovia per portare una testimonianza del dramma dell'immigrazione nel Mediterraneo. L'Istituto Italiano di Cracovia ci ha invitato qui a Cracovia, ad Auschwitz, per non dimenticare. Siamo stati invitati per portare le nostre testimonianze, la nostra esperienza in ordine all'assistenza sanitaria agli sbarchi a Lampedusa e a Palermo. Tantissime sofferenze da parte di migranti che, dopo aver subito tantissime violenze, pensiamo percorse, stupri di massa, cercano di approdare finalmente su una terra che ritengono migliore. Quindi sperano tantissimo in un nuovo futuro. La celebrazione del 71esimo anniversario della giornata della memoria abbiamo voluto dare una focalizzazione ai problemi dell'emigrazione contemporanea perché consideriamo che comunque per impegno civile l'Istituto debba avere anche un riscontro sul piano appunto dei nuovi avvenimenti, dei nuovi episodi che si stanno, ahimè, sempre più verificando in termini drammatici nella nostra attualità. Sono qua per testimoniare quello che oggi, purtroppo nel terzo millennio, succede ancora oggi con il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Il fenomeno dell'immigrazione clandestina che sta interessando un po' tutta l'Europa è iniziato sicuramente dalla isola che io rappresento, l'isola di Lampedusa e che oggi è diventato un fenomeno molto importante e un fenomeno che sta veramente mettendoci alla prova. Ma soprattutto metta alla prova la sofferenza di uomini, donne e bambini che soffrono e che sono in cerca di un mondo migliore, che sono in cerca della possibilità di continuare a vivere più serenamente. E anche a Villa Abate è stata celebrata la giornata della memoria in ricordo dello sterminio del popolo ebraico. Come in tutti i comuni d'Italia si ricorda la giornata per la memoria, giornata in ricordo dello sterminio del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare il 27 gennaio si ricorda il giorno in cui le porte di Auschwitz furono spalancate e si mise fine a questa pagina triste della nostra storia. Una giornata dedicata di mattina ai ragazzi, di pomeriggio alla comunità, perché attraverso la conoscenza e il ricordo si creano le coscienze. Questa amministrazione ci crede e porta avanti queste iniziative per contribuire a formare le coscienze dei nostri cittadini. Quest'anno l'amministrazione ci teneva veramente a ricordare un'intera giornata in memoria di questo triste ricordo. La mattina grazie all'impegno delle scuole, all'impegno e alla collaborazione dell'assessore Cilluffo, mentre nel pomeriggio grazie al maestro Licata e al suo concerto ricorderemo appunto la giornata della memoria. Villa Abate è presente questa mattina con tantissimi studenti che veramente grazie a poesie, a racconti, a ricordi stanno entrando nel cuore di tutti noi. A noi insegnanti l'arduo compito di veicolare queste informazioni fondamentali e delicate a bambini così piccoli. Quindi cerchiamo di carpire e di utilizzare strategie per veicolare questi concetti e queste informazioni in maniera più serena e delicata possibile. I bambini oggi hanno dimostrato di avere interiorizzato veramente quello che è successo e l'apporto che hanno portato è stato veramente commovente per tutti con le loro poesie, con le loro riflessioni su questo tema che veramente è stata una tragedia in mane che non si dovrebbe ripetere più. Io spero di avere suonato onorando le vittime musicisti e artisti che sono morti durante la seconda guerra mondiale a causa dei nazisti e quindi sono orgoglioso veramente di aver suonato e di aver ricordato l'olocausto del popolo ebreo. Veramente grazie a tutti, i villabatesi, all'amministrazione comunale che mi hanno consentito di realizzare questo magnifico concerto grazie anche alla collaborazione dei miei amici del Conservatorio di Palermo. L'Istituto Penale per Minorenni Malaspina di Palermo ha aperto le porte alla Federazione Italiana Pizzaioli nel mondo con l'iniziativa Una Pizza per un Sorriso. Sì, oggi questa manifestazione mi ha portato una grande emozione perché ritornare di nuovamente in un carcere minorile a fianco a questi ragazzi che comunque sono meno fortunati di noi per me è stato molto emozionante. Ringrazio Aiello e insieme a lui abbiamo deciso di portare questo progetto in tutta Italia, in tutto il mondo e soprattutto nella mia città Napoli nella Campania perché Campania ha bisogno di recupero di ragazzi veramente meno fortunati. Questa manifestazione con la FIP che si inserisce nell'arco delle manifestazioni quotidiane che portiamo avanti è indirizzata proprio a questo a fare in modo che i nostri ragazzi conoscano quante più cose possibili e che poi abbiano la possibilità di scegliere. Con i ragazzi ci conosciamo bene perché io non solo come persona ma come presidente del centro studi Paolo Borsellino ho un rapporto molto frequente diciamo con i ragazzi del Malaspina ormai da anni siamo presenti e il 19 di gennaio pochi giorni fa abbiamo festeggiato per la terza volta il compleanno di Paolo con loro. È un messaggio di vita quello che noi vogliamo portare a questi ragazzi è un messaggio di fiducia. Nella vita si può sbagliare, spesso è la società che ci induce a sbagliare o non ci offre gli strumenti necessari per poter fare le scelte giuste e bisogna riparare, restituire a questi ragazzi quello che non è stato dato loro dalla società nella prima parte della loro vita e fargli vedere che ci sono tante possibilità. Il progetto nasce in una bellissima serata organizzata dal circolo ufficiale invitando due ragazzi al circolo ufficiale portandoli il direttore del carcere minorile hanno portato questi due ragazzi che purtroppo sono detenuti in questo carcere uno è stato affiancato a me e uno alla cucina quello affiancato a me diciamo che abbiamo fatto una bella serata e da lì è nata questa bella occasione guardandoli negli occhi di questo ragazzo la tristezza gli ho detto vedi che io sono un organizzatore di eventi organizzo eventi e una pizza per un sorriso. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni.